Ciao ragazzi sono Foxy Romoli e oggi siamo finalmente in un nuovo video in Arena 6 su, vabbè in Arena 6, su Clash Oreal, indovinate su che è, vabbè, comunque guardiamo con l'occhio, tutto ok? Allora ragazzi se arriviamo a 30 mi piace faremo uno spacchettamento, capriamo questi, capriamo questi, benissimo iniziamo con la partita, ragazzi prima ho fatto circa due partite, l'ho vinto tutte e tre, no quattro partite l'ho vinto tutte e tre, tranne uno, che è l'ultima, cioè metteva tutto quello che ci aveva in mano Cioè una cosa tipo, si mette questo tanto chi se ne frega, tipo così, cioè, vabbè comunque, con questo niente, ah, è già, vabbè era già capito, vabbè, qua niente ragazzi, qua gli facciamo la torre, adesso non metteva la varcheria, la lurida bimba Facciamo colpire, facciamo colpire, facciamo questa davanti così, attenzione, gli ha fatti i danni, gli ha fatti i danni, signori Vabbè, lasciamo la parte sinistra, lo stregolo, intanto iniziamo con lo specca e lo scheletro gigante Signori, questa partita sarà molto difficile, perché, boh, lo vedo così a caso, comunque è difficile lo stesso Vai Vedete ragazzi che devo ripartire da tre, vabbè, quello l'ho già fatto da tanto tempo Ok, scheletrone gigante in attacco con il pecca, questo non si difende perché è decretino, troppo, comunque è successo per dire Ok, forse, forse ammazzo la strega, non so, 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 non so Funziona ragazzi Sì, abbiamo ripresa la partita Mettiamo un altro pecca Ragazzi, un altro pecca Ragazzi Ma l'altro l'ha ucciso Buttiamo giusto cose, giusto Ragazzi, ragazzi Mio Dio Gliel'abbiamo fatta, gliel'abbiamo fatta Gliel'abbiamo fatta, signori Ce l'abbiamo fatta Signori, se Questa lotta sta per finire Attenzione Non dico niente Signori Come dire, l'abbiamo fatta anche la terza E infatti Signori, quinta battaglia vinta Una persa per ora Cosa posso dire Cioè Guarda, se lo possiamo aprire Mancano due corone Ragazzi, se troviamo la leggendaria Nel baule della corona E se andiamo in arena 7 In questo In questo video Voglio almeno Più di 30 mi piace Quanti ne volete voi Ok Infatti Stavo per mettere lo stregone Eh sì, c'è lo stecco Questo qui Ciao Vedersi che Vi facendo i danni con lo stregone E il barile Pensate che C'è un mio amico che è in arena 9 Livello 7 Così 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 No 25 Dai ma che sfiga Zio ma adesso si difende fino alla fine Sto qua Non mi fa fare la torre Fammi fare la torre Sennò ti denuncio Tanto mi difendo anch'io come lui Signori Come dire Abbiamo fatto la torre L'ho detto Arena Boom Fatta la torre Signori Sono Super contento Se questo metto lo specchio Sennò finito Ok Non ho messo lo specchio Ragazzi Attenzione Eh sì Però mettiamo questi per Confondere il mago Che è il mio livello 5 Quindi Sì ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Teniamo duro fino Alla fine Ce la Ce la stiamo per fare Ragazzi Dai Vai ragazzi Manca pochissimo Qui alla fine della partita Della Sesta partita della giornata Voi ne vedete due Ma io ho registrato Anche un altro video Che è andato male Ma non è perché Non ho vinto Perché ha registrato male Questo Diciamo Eh mi ha fatto la torre Signori Ha registrato male Il registratore E quindi L'ho rifatta Però signori Diciamo se Viene male il video Non è un mio problema È il problema Di un'applicazione Che ho installato Tanto le facciamo la torre Ok Grazie Oh mio dio Mi chiamo avanti questi Per difendere Questo tutto Poi Eh Diciamo di nuovo Un altro stragone Un altro stragone Dov'è Aiuto Sono in difficoltà Ragazzi Aiutatemi Eh sì Metti anche Cioè Metti anche Tua madre In campo Fai prima Mamma Vieni in campo Così fai prima Cioè Metti tua madre Mamma Vieni in campo Ho bisogno di te Mi ha fatto la torre Signori Mi ha fatto la torre Signori Non mi sono difeso In questa partita Seconda partita Persa O terza Non so quante Ne abbiamo fatte Ragazzi Dai che ci manca L'ultima Dai che ci manca L'ultima corona L'ultima corona Per aprire Il baule Della corona Se no Così apri Allora ragazzi Eh Guarda Come si fa Eh no Ho sbagliato Ho sbagliato Signori No Forse no Infatti Messo proprio a pennello Guardate Pommo Mettiamo quelli Spiritelli Così Tanto la torre Eh infatti Spiritelli Messi bene Ragazzi Cosa posso dire Il baule Della corona Cioè Si aprirà Perché L'ho fatto Una Cioè L'ho abbattuto Una torre Quindi la corona Si aprirà E poi Se non troviamo Niente Buttiamo Il telefono Giù dal Balcone No scherzo Però se non troviamo Niente Dopo tutta Sta fatica Un po' Così Eh Sì Vai Poi Qualcos'altro Però il baule Cioè A livello 1 Fa cagare Quindi No No Ragazzi All'epica Oh Non ho fatto Anche di Tanti danni Si vede Che Non la so Usare Comunque Si usa Tipo Un po' Diverso Comunque Penso Ah Non sta male Continuiamo Mettiamo il barile Il barile Vai Attenzione ragazzi La sesta La sesta partita Vinta Signori Abbiamo vinto Eh Una partita Apriamo il Baule della Corona Niente Baule Per noi Perché Cioè Siamo un po' Pieni Apriamo il Baule della Corona Pazzone Pazzone Due gemme Cannone Mortaio E Danista Epica No Non volevo Questo Vabbè Comunque Ci andiamo A potenziare Delle carte Anzi Io me le terrerei Me le terrerei così Io me le terrerei così le carte Comunque ragazzi Se Superiamo O arriviamo a 30 mi piace Faremo lo spacchettamento Su Clash Royale Infatti ragazzi Guardiamo Ragazzi Come dire Se questo video vi è piaciuto Lasciate Un bel mi piace Qua sotto E Ciao Grazie 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 Grazie